Sabrina Salerno con Boys, 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 1987, lunedì 13 maggio, 8.35 minuti, ultime battute di questa puntata e ho voluto qui con me in studio la nostra bravissima producer Elisa, buongiorno! Ma buongiorno Fabio, da quanto che non ci vediamo! E infatti, perché? Perché abbiamo passato un weekend praticamente a vederci tutto il weekend Weekend per regno di crodi impegni, com'è andata? È andata bene, è stato un weekend impegnativo, ricco di eventi, però bellissimo In realtà abbiamo iniziato giovedì con la Civil Week Sì Giovedì, venerdì, sabato di Civil Week, sabato anche la festa di Crystal Radio Allora, da dove vuoi iniziare? Vuoi iniziare con la Civil Week o la radio? Dimmi tu, decidi tu Partiamo da sabato Da sabato? Da sabato mattina, come è stato allora andare negli studi di Crystal Radio e raccontare questi 40 anni? Tu che sei ben arrivata soprattutto È stato bello, bello, abbiamo conosciuto Ambrogio, abbiamo conosciuto Nello, abbiamo visto gli studi di Crystal Radio Che sentiamo sempre parlare, raccontare, ma così abbiamo dato anche un'immagine visiva Abbiamo visto come sono realmente questi studi Eh sì, perché noi trasmettiamo dallo studio di San Siro Loro sono invece lo studio di Ludovico Il Moro E quindi siamo finalmente potuti andare là e fare una trasmissione live lì da loro, no? Assolutamente sì 40 anni di radio, ma sono tanti 40 anni sono tantissimi 40 anni sì, è una vita di esperienze, assolutamente Ci sa qualcosa che tu tra 40 anni direi, beh, però per 40 anni ho fatto quella cosa No, io non ho una cosa che dico, per 40 anni l'ho fatta Ma va, io dopo 10 anni mi stufo di qualsiasi cosa Per 40 anni mi sono svegliata tutti i giorni Quello assolutamente sì Giusto, è vero, è vero, è vero, effettivamente sono 40 anni e passa che mi stufo tutti i giorni È già un bel risultato, effettivamente, non è male, non è male Assolutamente Poi li hai visti questi giovani qua Sti ex giovani che 40 anni fa hanno fatto la radio, quanto sono giovani anche adesso Alla soglia dei 60, lo possiamo dire La media lì dentro è quella Chi ha fondato, ovviamente aveva 20 anni quando ha fondato la radio 40 anni fa Quindi, insomma, più o meno la media è quella lì, no? Assolutamente sì Io non ce l'ho quell'energia, neanche a 20 anni ce l'avevo quell'energia lì Non è vero, non è vero Sarà la radio che ringiovanisce, sarà la radio che non fa invecchiare, che mantiene vivi, giovani Dici che la radio fa bene da quel punto di vista Quanto pare sì È vero, è vero, è vero, è vero Bene, è stata una bella esperienza Come è stato raccontare, anzi, ormai, insomma, sono un paio di mesi che sei qui a fare la produzione Com'è ogni giorno raccontare la città dai microfoni di una radio? Bello, bello, è bello soprattutto trovarti anche davanti al microfono Di solito sono di là ad ascoltare, invece a provare a dar voce alla città è una bella esperienza Bene, ne sono passati, ne passeranno ancora tanti di ospiti che, insomma, tu hai dovuto sentire Raccontargli, spiegargli, sentire i loro racconti Ma ci sono quegli ospiti che non ti morano più, no? Sì, 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 sì Non facciamo nomi, però ci sono Sì, assolutamente Che ti ammorbano con le loro storie Sì, che poi anche dopo la diretta ti fa piacere perché comunque Continua a sentire, sei sempre aggiornato, però Ti raccontano sempre, ti inviano sempre notizie Non ti lasciano mai un solo secondo Cioè, alla fine diventi la loro confessora Sì, sì, come si dice? Confessora? Confidente Confidente, grazie Confidente è meglio, sì, effettivamente Cioè, quindi diventano proprio parte della tua vita, diciamo Assolutamente, sì Da quando li conosci dicono, basta Adesso continueremo il nostro percorso insieme E dai, però è interessante Questa quante cose nuove stai sconoscendo anche tu Quello sì, ci sono tantissime cose che magari dai per scontate Che non, magari non ti soffermi su determinati tipi di notizie Ma dovendo fare, dovendo conoscere le notizie Raccontandoli anche agli ascoltatori E ti ci soffermi di più e impari a scoprire meglio Magari questa Milano che a volte diamo un po' per scontata Allora, quindi consiglieresti una carriera radiofonica, no? Assolutamente, sì E allora adesso andiamo con un po' di musica Ma mi racconti, perché voi non sapete appunto che Elisa in realtà Lei sta studiando e sta facendo appunto questa esperienza legata al suo studio, no? Giusto, tu studi? Io studio comunicazione Comunicazione, alla IUM, giusto? Sì Ok, perfetto Quindi se hai avuto questa esperienza per capire se davvero un giorno sarà questo il tuo futuro Chissà Ma soprattutto appunto capiamo se magari ad altri che sono in ascolto Potrebbe interessare magari l'idea di venire a raccontarsi O meglio, venire a provarsi, no? Come dire, a mettersi la prova È un po' un test questo per capire se quello è il mondo che ti interessa? Assolutamente Mettersi in gioco conviene sempre Cioè avevi mai pensato alla radio prima di venire qua? Sì, mi era passato per l'anticamera del cervello Ma fin quando non lo vivi non sai E allora andiamo avanti con la musica Adesso è il momento di Coez con Occhi Rossi E poi parliamo invece di Civil Week Perché al weekend la cara Elisa se l'è fatta anche in giro per la città In giro per la provincia E anche in video perché ha fatto le bellissime interviste Che poi ci racconterà Avanti Coez, Occhi Rossi Coez, Occhi Rossi Occhi Rossi che rischiamo Elisa di avere questa settimana Perché raccontiamolo a chi ci sta ascoltando Cosa succederà questa settimana qui a Good One in Milano Per cui potremo avere gli occhi rossi a fine settimana Ci lasceranno la nostra Andreina e la nostra Mary Passeranno la vita migliore No, nel senso che finiranno il loro tirocinio qui con noi E torneranno a fare gli esami A fare le lezioni Avete fatto tre mesi di vacanza Altro che qua, guarda E ci hanno accompagnato in questo periodo bellissimo Ma allora senti, anticipiamo un po' Poi se riusciamo Io vi ho fatto una promessa Dovrei riuscire a portarvi tutti entro venerdì Qui in Onda Magari facciamo una puntata anche dedicata Al discorso dello stage Magari litighiamo anche un po' Perché insomma so che gli stage non sono sempre bella Quindi non è sempre semplice come tema Il lavoro gratis, il lavoro non gratis La formazione Sono quei temi veramente complicati da capire E anche poi da spiegare a volte Però insomma questa esperienza Tu sei qui fino a fine giugno con noi Quindi insomma Però insomma possiamo tirare un primo micro bilancio Soprattutto dopo il weekend fatto in giro Com'è stato questo weekend in giro con la Civil Week? Molto intenso Weekend intensissimo Ricco di emozioni Perché comunque Ti porta a confrontarti con realtà Che a volte magari non conosci O con realtà di volontariato Di associazioni no profit Comunque tutta gente Che lotta per il sociale Che lotta per avere un mondo migliore Che crede in quello che fai Secondo me è importantissimo Anzi quello che dovremmo fare tutti Un po' di più nella nostra quotidianità Un pochino di più dici giusto Sì E insomma ti sei anche dovuta cimentare Nella versione giornalista Intervistatrice Come è andata? Bene 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 Tu diciamo Tu non volevi farlo no? No Però abbiamo rotto Che rotto Che rotto Come dite voi Peer pressure Ecco si ne abbiamo fatta veramente Cioè manca l'autocupo Cioè Elisa Elisa Così Siamo arrivati quasi a quel livello Alla fine non so come hai ceduto Assolutamente sì Pentita? No no Pentita no anzi Bella esperienza Che anche questo secondo me è da fare Secondo me Mi sono resa conto Che all'inizio non volevo Ero molto Nella mia idea Però Poi ho pensato E ho detto Caspita ma se non ci provi Almeno a fare le cose A buttarti Poi non saprai mai Poi magari ti ritrovi fra un po' A dire Ma perché non l'ho fatto Alla fine si vive una volta sola Ecco E com'è stato quindi Cioè Lo rifarai? Sì lo rifarò Lo rifarò Lo rifarò davanti allo specchio Lo stai rifacendo anche adesso Dai un po' Sì Quindi insomma Sì Appunto dicevo Se riusciamo Entro fine settimana Vorrei appunto Portarvi qui Tutte quante Per farvi raccontare Proprio la vostra esperienza Di stagio e tirocinio Qui a Good Money Milano Quindi chiederemo anche ad Andreina Chiederemo anche Ce la faremo a portare Andreina Secondo te Davanti a un microfono E davanti a una telecamera Guarda che anche lei a un certo punto ha detto Ah ma forse dai Lo faccio anch'io Se siamo in difficoltà Mi metto anch'io Questa cosa non la sapevo Non dovevi dirmela mi sa Andreina si è fregata Non dovevi dirmela questa cosa No però insomma È stata veramente Una bella esperienza Quella di questo weekend Quanto secondo te appunto Ecco E come io dico sempre Che la Civil Week La festa di Cristo Questi avvenimenti Che avvengono durante l'anno Che succedono durante I tivosi di Rocini Sono un po' come La gita di classe Quando parti in una maniera Ritorni che è cambiato tutto Sì È così anche questa volta? Sì Secondo me sì Cambierà anche i rapporti tra di voi Ci avete visto uniti come gruppo Sì Questo è Secondo me è stata Proprio una manna dal cielo Aver trovato Questo gruppo qua Di persone Sono Ognuno ha Un valore inestimabile Veramente Ti trovi Ci sono cuoricini Che partono della regia In questo momento Adesso gli occhi rossi Assolutamente Ecco perché gli occhi rossi di corso Sì sì no Sono proprio fantastiche Poi ognuno Ti trovi persone Che hanno da darti Ognuna Un qualcosa diverso Ognuna Ti regala un pezzetto di sé Un pezzetto di cuore Con la sensibilità La simpatia Invece parliamo Della tua esperienza Il momento più bello Di questo stagio Io so qual è secondo me Però vediamo Se me lo dici Qual è il tuo Il tuo momento più bello Qual è stato? Il momento più bello Oltre a Sabato sera Che è terminato Tu No Non dello stagio Della Civil Week Stavo pensando ancora Tutto lo stagio Dello stagio è stato Secondo me L'avere iniziato Sì Secondo me L'avere iniziato Io pensavo Quella foto che hai sul Quella foto che hai sul computer Sì sì Diciamolo In compagnia di Finardi Che è venuto nostro ospite Assolutamente A miei carissimi milanesi Assolutamente Con un'intervista Che ha condotto Fabio Voi dovete vederla Allora Elisa classe 1997 1997 Quindi super giovane Diciamo Una gruppi di Finardi Fatte finita Cioè Una sessantenne Fatte finita Che impazziva Diceva Ai miei tempi Quando ascoltavo Finardi Ma per caso che Cioè Com'è questa cosa? Perché Sono quelle canzoni Che Che ti accompagnano Perché mia mamma Le ascoltava sempre Quindi sono quelle canzoni Però anche tua mamma È giovane Non è così Sì sì Mamma è del 68 Però Sono quelle canzoni Che piacciono magari I genitori Che te li fanno ascoltare Fin da quando sei piccolo E che sono un po' La tua coccola Anche adesso Che l'ascolti Ti riportano indietro nel tempo Ti fanno rivivere E allora Per salutarti Ho scelto una canzone Che secondo me Anche questa qui Ti ha coccolato Quando eri piccolina È un Ivano Fossati Che con tutta una banda Va in giro A suona rock La mia banda Suona rock Ivano Fossati Grazie mille Elisa Ci sentiamo comunque In questi giorni Tanto siamo qua Dobbiamo andare avanti Elisa continua a produrre Anzi Se vi chiama qualcuno Da Good Morning Milano Sappiate Che è Elisa Galmarini Grazie mille